Musica Ciao a tutti e bentornati Allora, a poche ore dall'uscita del suo ultimo best seller Porto in giro mia mamma che ha male alle gambe Il nostro idolo si produce e mantenente in un'altra creazione youtubica E ci propone un delicatissimo video dal titolo Mega abbuffata con salsicce, peperoni e cipolle Mukbang Mas E' più che evidente che per quella sera non avevano in programma nulla di peccaminoso E quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere questa perla cinematografica Il video inizia già malissimo perché lui è in pigiama ma non è questa la cosa grave E che praticamente appare senza testa Senza testa nel senso che non ha regolato bene l'inquadratura E praticamente c'è il tavolo, il piatto, il busto, il collo, la bocca e nient'altro Vabbè però trattandosi di un mukbang direi che può andare perché la bocca era l'elemento essenziale E quella c'è Bene adesso ci mostra con molto orgoglio la pietanza che andrà a consumare Che praticamente è un composto di peperoni gialli e rossi Varie salsicce ne ho contate almeno 4 E abbondante cipolla Dice perché la cipolla? Perché va a dare carattere al piatto Fortuna vuole che lui è un uomo di poche parole Oddio l'aspetto non è propriamente invitante Oddio propriamente Che bella R che oggi Speriamo mi capitano tutte parole con la R Così ci faccio una bellissima figura Allora lui cosa fa? Ci accompagna a questo composto del pane E si parte ufficialmente con il mukbang Ora se ci fosse qualcuno di estremamente intelligente Potrebbe chiedere ma da bere? Cosa ci beve su questo manigaretto? Ebbè da bere lui ha scelto di accompagnare questa pietanza con un bicchiere di tè al limone Eh Dio buono che schifo Anzi propongo un sondaggio Secondo voi qual è la cosa più disgusto Disgustosa Ah sì quella Che ha raccontato o che ha fatto Davide A Quella di accompagnare salsicce e peperoni con il tè al limone Opzione B Quella di aver mangiato del cibo per cani Oddio anche questa però Opzione C Quella di aver mangiato un cordon bleu totalmente crudo Nel frattempo che voi ci riflettete su e lasciate quello che è il vostro commento E come fate se non ho ancora pubblicato il video? Noi siamo già in partenza e andiamo col primo boccone E con estremo piacere noto che la bocca durante la masticazione resta chiusa Ah no Come non detto Il rapporto è uno a due Cioè un boccone e due panini E beh direi che stiamo andando benissimo E tra uno e l'altro Cerca di intavolare anche un discorso Cosa ci racconta il nostro VIP? Ci racconta che a breve dovranno andare a fare la spesa per le feste Beh e a lui proprio non piace andare a fare la spesa Beh se magari non mangiasse 15 salsicce in una volta sola Magari la spesa gli durerebbe anche un pochino di più E non ci dovrebbero andare tipo 5 volte a settimana Ma ci andrebbero magari 2 Conoscendoli 3 No ci andrebbero lo stesso 5 volte Però dobbiamo rilevare anche quelli che sono i punti positivi E c'è che qualcosa sta migliorando Tipo non ha il solito piattaccio di plastica Ed ha anche il bicchiere di vetro Sono scioccata Ah dimenticavo i piatti a casa li lava lui Ecco perché sono ricomparse le stoviglie Ognuno ha la sua forchetta Sono riapparsi i bicchieri in vetro Non mangiano più nei piatti di plastica Perché li lava Davide? Poi sempre tra uno e l'altro Dice che non vede l'ora di mangiare il panettone gastronomico Preparato da sua moglie Chiara Non ha capito che non ci sarà E io non ho il coraggio di dirglielo Lasciamogli questa illusione E nel frattempo siamo arrivati anche a quello che è il quarto panino E ci mostra anche un pezzo della sua salsiccia Oddio me l'ha detta così Suona male La salsiccia che sta mangiando Vabbè ancora peggio Lasciamo perdere Questi sono argomenti spinosi Come ti muovi Sbagli Torniamo al nostro protagonista Che nel frattempo sta facendo dei magheggi strani col tovagliolo Ma la scena viene tagliata nettamente Sarà il solito pulire naso, bocca In un ordine un po' confuso Prima la bocca Poi il naso Poi viceversa Vabbè che schifo E poi mega ideona Che avevo spaventato Cosa fa il nostro genio? Prende un panino Lo divide in due parti E ci piazza dentro i peperoni che sono rimasti nel piatto Che ora che li smuove per rigidità Sembrano pure un po' crudi Ma dettagli Dettagli pucciosi Bene Al momento il piatto è rimasto vuoto Lui riprende il tovagliolo Pulisce naso, bocca E con lo stesso tovagliolo Dà una bella ripulita al tavolo vittoriano Su cui sta mangiando E non aveva manco messo una tovaglietta Tra il piatto e il tavolo Su cui manco a dirlo Si è riempito di briciole Dato che avrà mangiato circa dieci panini Ma ora fermi lì Perché lui per sicurezza Dà un'altra ripassatina al tavolo Col tovagliolo umidificato Da che? Dal fatto che aveva pulito naso e bocca In precedenza Adesso dà un'altra ripulita al tavolo Giusto così Per sicurezza Perché siamo persone Estremamente pulite E precise Sì Buonasera Ora non per essere pignoli Ma vi immaginate lo stato di quel tavolo Se ad ogni pasto fa così Si corre il rischio di rimanerci attaccati Con le braccia su quel tavolo Che schifo però Ma io non ci voglio ne manco pensare E il video si conclude in questo modo Cioè lui che ha ripulito tutto il tavolo Ha svuotato il piatto E si augura di aver mangiato in vostra compagnia Anzi vi chiede Quando state per pranzare Per cenare Per fare merenda Qualsiasi cosa state per fare Sintonizzatevi con il suo mukbang E lui vi tiene compagnia Mentre voi mangiate Lo farete? Opzione A Sì Opzione B No Opzione G G Ma no Era G Ma dai dove cazzo è uscita sta G? Era C Come como Allora opzione C No non me ne frega niente Conoscendovi mascherine Credo che ci saranno tante C Bene In conclusione del video Ricordiamo che ieri abbiamo fatto Le congratulazioni E gli auguri a Sharon Perché questa ragazza È molto indipendente Lavora E si è comprata addirittura Un'auto nuova tutta da sola A differenza del suo patrigno E di sua mamma Che viaggiano sulla Come la chiama Fate La smertomobile Certo che deve essere veramente dura Da digerire Che sua figlia Riesce a fare Quello che lei Più il guadagno del marito Non riescono a fare O meglio Lei non vuole fare Perché io credo che A Davide Farebbe più che piacere Avere sotto il culo Un'auto nuova Piuttosto che Quel catorcio che guida E non parlo prevalentemente Per un fattore estetico Ma più che altro Per un fattore di sicurezza Dato che loro Con quell'auto Vanno spesso in giro A fare la spesa Ai centri commerciali E sì Solo là Però C'è da mettere in conto Anche che Chiara È un soggetto Che va molto ad imitare Le persone che ha intorno Ad esempio Ha visto Fate Acquistare una tv nuova E anche lei È subito corsa Ad acquistare Questa tv nuova Ora magari Vedendo che Sua figlia Da sola Con le sue entrate È riuscita Ad acquistare Un'auto nuova Magari Come prossimo progetto Hanno quella Di prendere Un'auto nuova Però Siccome è per Davide Prevalentemente La cosa Insomma Traballa Alquanto Perché possiamo dire Con tutta tranquillità Che ultimamente Su Davide Si fanno veramente Delle grosse Economie E questo È sotto gli occhi Di tutti Bene Questo voleva essere Un brevissimo Riassunto Di quello che è stato L'ultimo Mukbang Proposto da Davide E chi è Davide Ma il bello È dannato È osannato Di Youtube Vabbè va Io vi auguro Buona continuazione Di giornata Vi do appuntamento A quello che sarà Il prossimo contenuto E nel frattempo Che succede Tutto questo Un bacio a tutti Da Gossip Un bacio a tutti Grazie Grazie